Proseguono verifiche e controlli a Barletta sulla sicurezza degli edifici, per esempio sono stati sgomberati perché fatiscenti i locali dell'ex ospedale pediatrico che ospitava tra l'altro la sede dell'associazione operatori emergenza radio. Ieri sera il ricordo commovente delle cinque vittime, c'era per noi Costantino Foschini. Migliaia di persone, corteo lungo un chilometro che si snoda silenzioso da piazza Aldomoro, il luogo dei funerali a 50 metri dalle macerie fino alla veglia in cattedrale. Il crollo ha fatto crollare in città anche molte certezze che tremolavano nella sera come le luci dei lumini, ma davvero la rincorsa al benessere, allo sviluppo che può passare anche dall'abbattimento di una vecchia palazzina per farne una nuova vale certi rischi e la sicurezza dei tecnici, le loro capacità di controllo e previsione, quanto è sicura. E ancora, dover lavorare sempre e comunque per salvare un tessuto di manifatture da una feroce concorrenza vale la piaga del lavoro nero nell'oscurità di un'economia più che mai scienza della miseria? Eppure la certezza viene proprio dalle vite di queste giovani donne. Nella cattedrale si ripeteva, non sono finite, vivono in noi. Quelle quattro operaio, spose, madri, una quasi nonna, non conta quanto venissero pagate, pochissimo. Contano invece i loro sogni e bisogni per cui lo facevano, così come le speranze di quella ragazzina che studiava con tanta passione. Sono loro e le persone come loro che stanno salvando il mondo. Oggi c'è più dolore o più rabbia? Vedi, c'è la rabbia, però noi siamo persone civili e allora vogliamo dimostrare anche questa rabbia in un modo civile. Ci saranno poi altri momenti per chiedere reazioni, spiegazioni e giustizia. Cosa pensate delle responsabilità? Delle responsabilità verranno sicuramente accertate, perché chiaramente non possiamo vivere, continuare a vivere senza speranze che sono certezze nel fatto che la giustizia deve essere accertata.